Acquiterme è l'arte, un binomio incindibile che dura da sempre. Tra i preziosi reperti storici custoditi nelle suggestive sale del Museo archeologico, prende vita divine astrazioni, collezioni di informale. Una mostra dedicata all'arte informale in Europa, nata alla fine degli anni 40 come concezione ribelle dell'arte che rifiuta la forma per intervenire direttamente nella materia con un segno espressivo e un gesto spontaneo. Un gesto di protesta che racconta la delusione e la precarietà della condizione umana dopo la guerra. Questa esposizione vuole essere un omaggio a quel fulcro storico. È un prisma colorato che ruota intorno ad alcune importanti collezioni private. È un dialogo tra l'arte informale e i reperti archeologici. L'informale non è un movimento artistico omogeneo. Raccoglie anche tendenze contrapposte dal momento che non presuppone di attenersi a regole o modelli costituiti, ma fa riferimento al motto del qui e ora, da esprimere nel modo più libero, spontaneo e violento possibile. Gestuale, materico e segnico. Sono queste le tre tipologie dell'informale che si riconoscono in questa mostra, che raccoglie circa 30 opere dei più significativi rappresentanti della corrente artistica. Da Burri a Destel, da Afro a Fautrie, da Artung a Fontana. Storia e arte si ritrovano e a fare da scenario è ancora una volta Acquiterme in tutto il suo splendore. Non resta quindi che darvi il benvenuto e lasciarvi catturare dal fascino astratto e gestuale, ma allo stesso tempo elegante dell'arte informale. Grazie a tutti.